È brutto che sta a vita, da quanti anni sono che stanno io con questo letto che l'ho andato accesa in l'aria di ferra e mi viene a rire il suo popolo. È brutto che sta a vita, da quanti anni sono che stanno io con questo letto che l'ho andato accesa in l'aria di ferra e mi viene a rire il suo popolo. La bellezza prigioniera di impalcature. Parliamo del santuario dell'Annunziata di Giuliano, casa della compatrona Maria Santissima della Pace, un luogo caro ai giulianesi oltre il culto. La facciata è infatti tra i simboli della città. Oltre ai tubi di ferro che ne deturpano la bellezza architettonica, da qualche mese una nuova piaga sta devastando l'immagine del santuario. Una vera e propria invasione di uccelli che hanno preso residenza all'interno dell'edificio, disturbano i momenti di preghiera e lasciano escrementi ovunque. La situazione per i parrocchiani è diventata davvero insostenibile. Ora sono due o tre mesi, anche di più, stanno i colombi massati, stanno vinti 30 colombi. Quando fa la funzione la chiesa i colombi vogliono tutto d'altro. Il don Vincenzo sta fuorso per farlo, però quello da 50 anni che ho pratico la chiesa non si è mai verificato un colombi, c'è stato mai niente. Che non va bene come sta, è un santuario, il lavoro si deve fare. Grazie. 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 Grazie.